Buongiorno ragazzi, bentrovati! Siamo qua a Portoferro, una spiaggia molto famosa della Sardegna. La prima volta per me in una spiaggia dopo due mesi di quarantena. Il tempo è fantastico, ci sono tantissimi surfisti come potete vedere, persone che fanno surf. E oggi vi porterò a fare una piccola escursione dove potremo anche imparare qualche nuova parola in italiano. Siete pronti? Andiamo! Siete pronti? Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla prima torre che vedete lì. E poi alla seconda che invece è un po' più in alto. Intanto vi posso spiegare qualche parola tipica della spiaggia italiana. Adesso io cammino sulla sabbia. Poi abbiamo invece il mare, come potete vedere. Ovviamente nel mare ci sono le onde, waves. Stiamo salendo sulla prima torre. Questa in italiano si chiama torre. E' un percorso bellissimo e come potete vedere c'è anche un fantastico panorama. Ottimo, siamo arrivati alla prima torre e adesso vi porterò qua su e così vediamo un po' il panorama. Questa torre è una torre molto antica, ha circa 400-500 anni, però come vedete è ancora in ottimo stato. Ho trovato la mia prossima casa per le vacanze. Siamo saliti sulla torre, come vedete. Non è grandissima, però devo dire che c'è un panorama spettacolare. Questa torre ha anche un balcone. Adesso ci andiamo. Perfetto. Un'altra parola importante italiana che è connessa alla spiaggia, al mare, alla natura, è roccia. Roccia è come in inglese rock. Ci sono tantissime rocce. Bene, ragazzi, sono riuscito a scendere dalla torre e adesso l'obiettivo è quello di raggiungere questa torre qua. Quindi dovremmo camminare un po'. Forse questa non sarà proprio una passeggiata, ma sarà forse più una piccola escursione. Durante una escursione si cammina di solito su un sentiero, come potete vedere. Diciamo che dopo due mesi di quarantena, fare un po' di attività sportiva non è così male. In queste situazioni ti chiedi veramente se hai 28 anni oppure 82. Siamo quasi arrivati dopo un po' di fatica, ma effettivamente questa fatica è stata ripagata perché è veramente fantastico. Qua abbiamo una seconda torre, su questa è un po' più difficile salire. Veramente bellissimo, veramente fantastico. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e di questa escursione. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e seguite la mia pagina Facebook Parliamo Italia Nel Simo. Ci vediamo presto, ciao!